Ma che cavolo è, il vicino si è rimesso di nuovo a suonare il flauto, non sei capace! Ma aspetta, questa musica mi è familiare! Ehi, ciao! Cosa? Spongebob? Esatto, in spugna e niente ossa! Sto ancora sognando! No, assolutamente no, sei sveglio come una medusa! Bene, credo, ma cosa ci fai qui? Sono uscita dall'acqua per sbaglio! Ma come per sbaglio? Eh, sì, per sbaglio! Ma non è una cosa che puoi fare per sbaglio, scusa! Ok, è stato quel cattivone di Plankton, mi ha buttato fuori! Però dovevo immaginarlo, ma quindi vorresti tornare a casa? Esatto, io manca pittini e botton! Toglimi una curiosità, ma perché sei venuto da me? Mi hanno detto che pabbi con gli oggetti, ho pensato che potessi farlo anche con le spugne! Fa una piega! Mi darai una mano? Sì, certo, ma ti vedo un po' diverso dal solito sbaglio! E mi aspetto fuori dall'acqua! E anche la voce strana! E quella che mi danno su TikTok! Ah, carino! Eh, vabbè, ci menteremo qualcosa! Intanto fai come se fosse a casa tua! Uh, grazie! Ciao, no, pronto! Ciao, no, pronto! Ciao, no, pronto! Va bene, ottimo! Intanto, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like se vorreste altri video così! Se volete supportarmi, iscrivetevi al canale! E non dimenticate che qua sotto in descrizione trovate il mio libro! Punibile sempre su Amazon! Comunque potete piacere anche a te, Spon... Ma dove hai andato? La 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 la! Oh, eccoti, ma cosa fai? Cucino, che domande! Oh, ma che carino! Cosa cucini di buono? Un fantastico, tra i patti! Grande, sempre sognato di mangiarne uno! Oh, perfetto! Perché non giochiamo che questo sia il Krusty Krab? Dai, ci sto! E io cosa faccio? Il lavoro più adatto a te! Cosa è? Il lavapiatti! Oh, grazie! Ma figurati, magari lo preparò a Mr. Krab! Se andrebbe di lavorare con me, saresti pagato in sudore e amore per il lavoro! Niente soldi! Guarda, come se avessi accettato, eh! Ma sai, sono un po' impegnato con i video! Capisco, tranquillo! Comunque, effettivamente, ne approfitto per lavare le cose dalla colazione, va! Bravo, ti vedi, ah! Ok, ma dove ho messo la spugna? No, aspetta, vanno! Oh, eccola! Banana! Una bella strafinata e via! Ah, inlassante! SpongeBob, cosa stai facendo stavolta? Beh, non si vede il bagno! Ok, ma proprio nel bidet? Non è una vasca per spugne? Eh, no, tecnicamente no! E cos'è, allora? Eccomi, glielo spiego! È tipo una fontanella da cui esce l'acqua! Wow, è qui la voce dappertutto? Sì, praticamente sì, a parte in Francia! Oh, bene! E voi per che cosa la usate? Eh, io, eh... Ma no, è proprio per lavare le spugne, certo! Hai ragione, era uno scherzo! Per cos'altro, se no... Ah, ecco, lo sapevo! Eh, grande! Io vado di là, eh! Ci vediamo dopo! SpongeBob, ma sei su YouTube? Ho visto che ci sono un sacco di video sulle spugne! Eh sì, eh, a quanto pare, incredibilmente sì! Oh, guarda! C'è ancora un pubblicità con un simpaticissimo riccio! Fammi cliccare! No, quella non guardarla! Sarà un bratoio! Andiamo! Non pensavo ti caricassi così tanto per un giro in macchina! In realtà non ho neanche idea di cosa sia! È un mezzo che usiamo per spostarci! Oh, ok, ok! Quindi come se fosse una barca! Eh, la tua ragione! Posso guidare io? Hai la patente! No, ma devo rifare l'esame! E poi finalmente sarà mia! Ah, beh, aspetta! Rifare? Ma in quante volte hai fatto l'esame? Beh, è solo un milione e 258.056 volte! Oh, complimenti! Ma grazie! No, ma intendo... Vabbè, facciamo stare! Andiamo, va! Ta-ta-ta-ta! Ah, ti piace la musica, vedo! Ah, sì, sì, è molto carina! E cosa stai ascoltando? Beh, alcuni grandi classici sul mare! Sì, ma tipo? In fondo al mare, mare mare o mare fuori, why you! Ok, l'ultimo non me l'aspettavo! Ehi, Vano! Dimmi! Ma come mai qui non c'è acqua? Perché hai sete? No, intendo perché non vivete nell'acqua! Beh, perché non siamo nell'oceano? Sì, ma perché? E perché no? E perché no? Perché no? Ma perché no, perché no? Cavallo, eh, ascolta, ma stai continuando a parlare di acqua e di mare, non è che ti manca casa? Eh, sì, in realtà sì! Calmo, calmo, forse posso fare qualcosa! Ah, bene, grazie! Figurati, dammi solo un attimo! Ehm, non so se mi piace! Vabbè, dai, come è casa tua, dopo tutto! Sì, ma non sembra reale! Perché casa tua lo è? Certo! Vabbè, lasciavano le sue convinzioni! Però è divertente, guarda come è stato nel gioco! Beh, è meno bello! Però voglio comunque tornare a casa mia! Cavallo, devo trovare una soluzione, sennò questo mi piange per tutta la camera! Aspetta un secondo, tu avete in mare, no? Sì, perché? Wow, che ricopro veloce! Ehi, sono una spugna, assorbo subito! Onesto, vabbè, forse ho un modo per farti tornare a casa! Oh, bene! Ti piacciono gli scivoli a tubo? Oh, certo, li adoro! Ottimo, vieni con me! Ok, andiamo, scivolo! Ok, spongino, sei pronto? Sì, è pronto, sarà pronto, sarà pronto! Stavo una volta sola, tranquillo! Oh, scusa! Ok, 3, 2, 1... Giovanna! Ah, bene, a posto! Altra missione compiuta! Oh, cavoli! Ma adesso come arriverà Bikini Bottom? Vabbè, oh, cavoli suoi! Non è che posso sfamare tutte le spugne del circondario io, eh! Che cavolo! Bello ragazzi, oggi va ben andato, ma sta bene, tranquilli, l'ho sentito simpatico, eh! Vabbè sta un po' addosso, mi sono sentito molto squiti! Comunque, io spero che vi sia piaciuto! Mi raccomando, non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se volete supportarmi! Ovvio, se avremo tanti like, io saprò che il video vi è piaciuto, quindi di conseguenza potrei fare altre puntate su altri personaggi che verranno a importunarmi, molto probabilmente! Vedremo, comunque se avete suggerimenti, scrivetene i commenti! E noi ci vediamo sempre, come al solito, tutti i giorni con un nuovo shorts! E mercoledì e vero dì con un altro nuovo video lungo! Bene ragazzi, ciao! Mi sa che sarà il prossimo, voglio neanche saperlo, guarda! Ciao! 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 Ciao!